Ciao amici di Butac e benvenuti nella realtà. Oggi parliamo di Lebbara. È davvero arrivata in Italia come alcuni titolano? Le cose non stanno proprio così, ma bisogna studiarle un po' con più attenzione. E a fine video leggerò un commento di uno di voi che ci ha parlato proprio dell'argomento sensazionalismo e pseudogiornalismo. È interessante sentire il parere di tutti. Lebbara. La Lebbara è arrivata in Italia. Come due anni fa si parlava che Ebola era arrivato in Italia portato dagli immigrati, adesso sembra che sia un'epidemia di Lebbara nel nostro paese. Ma in realtà si tratta di sciocchezze. Sciocchezze come hanno già spiegato sia le persone che hanno visitato il nigeriano che sarebbe ammalato di Lebbara, sia le persone che bene o male ci sono state in contatto. Il ragazzo, sì è vero, arriva dalla Nigeria e presentava delle strane ferite che potevano far pensare alla Lebbara. I medici che l'hanno visitato hanno potuto confermare, sì, il ragazzo probabilmente ha avuto la Lebbara quando era in Nigeria. E in Nigeria l'hanno curato ed è arrivato qua senza alcun tipo di problema. E come tutti gli immigrati che arrivano in Italia, è sbarcato, ha passato una profilassi medica, delle visite che hanno verificato come stesse e solo dopo è stato mandato in un centro d'accoglienza. Non l'avremmo mandato in un centro d'accoglienza se già alla prima visita medica ci fossimo resi conto appunto che era ammalato di Lebbara. I titoloni dei giornali sensazionalistici servono solo e soltanto a farvi venire paura un'altra volta degli immigrati, come a suo tempo sostengono appunto che Ebola veniva portata in Italia degli immigrati. Quanti casi di Ebola abbiamo avuto in Italia? Zero. Per cui fare sensazionalismo giusto per soffiare sul fuoco della xenofobia è pseudo giornalismo. Pseudo giornalismo che dovrebbe sparire perlomeno da quelle testate registrate che hanno un nome da rispettare, un'autorevolezza magari costruita negli anni e che oggi stanno facendo rotolare giù dalla discesa. Perché più andiamo avanti, più il giornalismo italiano fa veramente schifo. Io non so che altro dire, perché leggere quel tipo di titoli, sentire la gente allarmata nelle pagine social, oddio sta arrivando la Lebbara, mette ansia, mette ansia a tutti ed è ovvio che guarderanno con più diffidenza lo straniero. Ragazzi bisogna abbassare i toni, cercare di imparare a fare un giornalismo magari un po' più lento, un po' più preciso, meno urlato, meno sensazionalistico. Per oggi è tutto, ma prima di chiudere voglio leggervi un commento apparso sul nostro canale YouTube, un commento collegato a quello di cui abbiamo appena parlato, il giornalismo in generale. Zio Azalin ci scrive Agni orsono ho lavorato al Corriere e posso dire di aver conosciuto solo un paio di giornalisti seri, tra tutti quelli che ho visto. Per lo più ricercano il titolone, la notiziona che fa vendere la testata. Un po' però penso sia anche colpa nostra. Alla fine siamo noi, i lettori, che cerchiamo la notizia shock, che premiamo il sensazionalismo, acquistando il giornale o cliccando sul link e magari condividendolo senza cercare conferme. E da quanto pare il problema non è solo italiano. Zio Azalin ha solo ragione, ragazzi. Se vi mettete a guardare quali sono gli articoli più letti nelle varie testate vi accorgete che 9 volte su 10 si parla di belle donne o articoli sensazionalistici. La vera informazione interessa sempre di meno ai lettori, anche perché purtroppo si fa sempre più fatica a trovarla. Se volete iscrivervi al canale cliccate qua sotto e campanellina per ricevere le notifiche. Lasciateci un commento sia mai che la prossima volta leggiamo il vostro. Alla prossima, ciao! Ciao!